Ciao a tutti, rieccomi con un nuovo video, questa volta il video riguarderà la fiera creativa e nello specifico riguarderà la mia giornata di domenica 9 novembre. Oggi è lunedì 10, quindi infatti voglio parlarvi della giornata che ho trascorso ieri a Napoli. Insieme a Marilu a cui mando un bacio grandissimo e insieme a Daniela che ho conosciuto ieri e con cui appunto ho trascorso tutta la mezza giornata. Daniela è una bravissima creativa e avevo già apprezzato da tempo le sue creazioni e adesso ho il piacere di possederne una che mi ha gentilmente regalato, è stata carinissima e infatti volevo mostrarvela, ma volevo farvi vedere anche la confezione, com'è carina. È stata realizzata appunto con questa carta di riso molto particolare secondo me, il biglietto da visita poi è molto bello e all'interno appunto c'è la creazione che adesso vi mostro. Si tratta di questi bellissimi orecchini realizzati con una lamina di rame e una goccia di crisoprasio che è una pietra molto molto bella. Gli orecchini sono veramente curati nei minimi dettagli, mi piacciono tantissimo, quindi io ringrazio di cuore Daniela, la ringrazio per essere venuta in fiera nuovamente appunto per la giornata che abbiamo trascorso insieme e vi invito a visitare la sua pagina facebook, vi lascerò il link nel box informazioni qui sotto al video e anche il suo canale youtube, anche se so che in questo periodo è un po' fermo, ma credo e spero che riprenda al più presto con nuovi video. Ritornando alla fiera e alla giornata appunto che ho trascorso a Napoli, in questo video voglio mostrarvi i miei acquisti e vi parlerò come sempre delle impressioni generali appunto della fiera creativa di Napoli. Io e Marilu ci siamo recati in fiera verso le 12 e mezza, quindi siamo andate nel pomeriggio perché di mattina siamo state a fare un giro dai pakistani ed è lì che ho fatto la maggior parte degli acquisti anche perché sapevo che in fiera non avrei trovato tutto quello di cui avevo bisogno. Vi faccio vedere quindi gli acquisti che ho fatto dai pakistani e poi vi mostrerò i pochissimi acquisti che ho fatto in fiera. Parto appunto col mostrarvi questo bellissimo filo di madreperle a rumbo, io adoro le madreperle, mi piacciono tantissimo e mi piace utilizzarle sia nelle creazioni con perline ma anche in creazioni assemblate o con il wire eccetera. Ho deciso di acquistarle proprio perché ho in mente di creare qualcosa con le perline all'interno del foro di queste madreperle, mi piacciono veramente tanto e non so spero che appunto questo progettino mi riesca e spero appunto di riuscire a concretizzarlo nel più breve tempo possibile. E quindi queste sono le prime pietre che ho acquistato. Questi sono quattro fili di agata, come vedete appunto sono due colorazioni di agata molto differenti. Questo è un arancio e questo è un verde striato. Mi piacciono entrambe perché sono molto autunnali, sono veramente belle e spero di poterci fare qualcosa al più presto. Sempre rimanendo sul tema delle pietre dure, vi mostro questi tre fili che ho acquistato sempre dai pakistani e si tratta nello specifico di occhio di tigre. Ve lo mostro un pochino più da vicino, eccolo qui. Molto molto bello, sono delle pipite un po' irregolari, sfaccettate, che ho intenzione di utilizzare per qualche creazione appunto autunnale. Anche queste sono pietre secondo me che per questo periodo sono adattissime. E poi vi mostro questi due fili di una pietra molto molto particolare, che mi piace tantissimo. Si chiama pietra paesina e si tratta appunto di queste gocce, veramente hanno più una forma pera, molto belle, e di questi ovali. Come vedete ogni pietra è diversa dall'altra, hanno delle sfumature veramente particolarissime. Avevo già acquistato due gocce di questa pietra a Pisa, quando sono stata appunto a Pisa per la mostra dell'artigianato internazionale. E adesso appunto ho trovato questi fili molto molto belli, a un prezzo vantaggioso e ho deciso di acquistarli. Come sapete io ho un po' una mania per i cipollotti e questi sono tutti i cipollotti che ho acquistato dai pakistani. Ne ho acquistato un filo anche in fiera, perché mi serviva appunto quel colore particolare. Ve lo mostrerò dopo però. Mi volevo soffermare su questi qui, che sono a dir poco spettacolari. Guardate che bellissima colorazione di cipollotti, sono veramente strepitosi. Io li adoro e ho intenzione di inserirli al più presto in qualche creazione. Poi ho acquistato tre fili di questi cipollotti turchesi. Ne ho già alcuni fili, però non bastano mai perché appunto sono bellissimi. Io li adoro in questa colorazione e li utilizzo molto spesso, sia all'interno delle collane che all'interno degli orecchini. Poi ho preso questi cipollotti più piccoli e sono neri e questo acqua marina opaco. Molto molto belli anche questi e questi si possono utilizzare benissimo anche negli orecchini perché sono veramente piccoli. Saranno da 3 mm, sì, non di più, 3-4 mm. E infine l'immancabile Crystal AB che mi serve sempre, insomma, in tantissime creazioni. Questi sono da 6 mm come anche gli altri che vi ho mostrato in precedenza. Sono tutti da 6 mm ed è una dimensione, secondo me, molto versatile. Tra le pietre dure ho dimenticato di farvi vedere anche queste qui che sono dei fili di corallo bambù. Sono veramente bellissime, io le adoro. Ho realizzato un capriccio un po' di tempo fa con queste pietre, con pasta di turchese da 4 mm. Sono veramente spettacolari. Secondo me si possono utilizzare all'interno di tantissime tipologie di creazioni e infatti io adoro le perle di questo tipo da 4 mm proprio perché le utilizzo sia all'interno di bracciali magari assemblati o anche all'interno di creazioni con perline come per esempio il bracciale capriccio. Poi adesso si avvicina il Natale e direi che il rosso ci sta tutto. Passando poi alle catene ho acquistato queste due tipologie di catene che sono molto grandi. Questa qui l'ho acquistata per di più per utilizzarla come manico di una borsa. Ne avevo acquistata già una tipologia un po' di tempo fa però l'ho già utilizzata per fare appunto altro e quindi ho deciso di prendere questa catena, insomma quest'altra tipologia di catena per fare il manico della borsa. Questa mi piace tantissimo voglio mostrarvela più da vicino per farvi cogliere un attimino tutti i particolari di questa catena che è appunto creata con questi cerchi distanziatori sia a spirale piccolini che un po' più grandi vuoti. E sono veramente molto molto belli questa oltre ad essere utilizzata come catena ovviamente i vari componenti si possono scollegare e si possono utilizzare per orecchini, collane, bracciali e quant'altro. Per quanto riguarda componenti di minuteria ho acquistato questi pochi componenti qui e nello specifico ho acquistato degli anellini in bronzo perché li avevo finiti di queste dimensioni e quindi ho voluto prenderli anche per creare qualcosa con la helm chain. Mi sono trovata bene appunto con questa tipologia di anellini e ho intenzione di ricreare un cordoncino che avevo già creato tempo fa e poi ho acquistato sia questi perni, credo che la base sia da 8 mm, sì da 8 mm e hanno praticamente la parte a coppetta. Non so se si riesce a vedere bene dalla videocamera, credo di sì e praticamente c'è la coppetta con uno spuntone al centro ma io ho intenzione appunto di eliminare lo spuntone e di creare soltanto una coppetta magari poi per creare qualche altra tipologia di orecchini a perno con perle eccetera. Quindi vi farò sapere come li utilizzerò e infine ho acquistato questi due castoni per degli chaton da 8 mm perché voglio fare degli orecchini appunto con questi chaton. Sono orecchini molto molto semplici che secondo me però sono bellissimi, in questo periodo sono diciamo predisposta tantissimo verso gli orecchini a perno perché secondo me sono molto più portabili in questi periodi rispetto agli orecchini pendenti. Sempre in questi negozi ho acquistato queste splendide monachelle che sono veramente bellissime, guardate qui che spettacolo. Queste sono oro montate con questo componente in colorazione smeraldo a goccia, queste invece sono argento con un ovale sempre smeraldo e questi qui sono con questa colorazione acquamarina bellissimi sempre con l'oro. Li trovo veramente molto 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 belli. Per finire ho acquistato dai pakistani queste due splendide perle nepalesi, sono delle perle appunto realizzate con turchese e corallo e secondo me sono molto 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 particolari. Io adoro questa tipologia di perle e spero di poterli utilizzare al meglio e che appunto l'ispirazione mi aiuti in questo senso. Io le trovo veramente bellissime. Sono montate con ottone, ci sono sia in colorazione argento che appunto dorate con l'ottone. Ora passo a mostrarvi gli acquisti che ho effettuato in fiera. Parto con questi cabochon che sono veramente bellissimi. Li avevo visti già nel video di alcune ragazze, appunto Margherita, Valentina eccetera, che li avevano acquistati in fiera a Bergamo e quindi ho deciso di acquistarli anch'io. Sono dei cabochon a goccia in resina, molto molto luminosi e li ho acquistati presso lo stand creativa kit bijou di Marta Zanzottera. Ne approfitto anche per salutare Leonora, mi ha fatto tantissimo piacere rivederla e appunto la fiera è anche un'occasione per rivedere persone che non si vedono da un po' di tempo. Poi presso uno stand di pietre dure ho acquistato questo bellissimo filo di pietra di luna. Non so se riuscite ad apprezzarne i riflessi, sono veramente spettacolari. Io adoro questa tipologia di pietra e sono stata deviata, se è il caso di dirlo, da Serena e Margherita che appunto adorano anche loro la pietra di luna e la labbra dorite. Quindi questo è un filo di rondelle e questo è un piccolo cabochon a goccia che ho intenzione appunto di lavorare insieme, non so ancora con quale tecnica. Ci penserò e vedremo un pochino con il tempo. Poi sono stata presso lo stand di Brillanti Creazioni, Mari che saluto e a cui mando un bacio grandissimo, presso il quale ho visto anche dopo un po' di tempo Nunzia. Nunzia è una carissima ragazza che appunto faceva i corsi da Brillanti Creazioni e da lei ho visto alcune novità che mi sono piaciute tantissimo e ho deciso di acquistare. E sono nello specifico queste rocaie qui, ve le faccio vedere adesso più da vicino così riuscite a capire un pochino meglio. Si tratta di alcune rocaie della Miyuki che vengono trattate dall'azienda che praticamente si occupa delle colorazioni delle perline cieche, quindi delle Super Duo, eccetera, le rulla, eccetera, e hanno le stessissime colorazioni delle Super Duo stesse. Nello specifico questa è la Black Slipper It, se non mi sbaglio, esatto. Le confezioni sono da 10 grammi e il prezzo è di 1,95. Non le avevo ancora viste in giro e appena le ho viste dal vivo me ne sono innamorata e le ho acquistate. Ho preso sia queste 11.0 che le 15.0, che ovviamente vengono un po' di più. Ma sono veramente strepitose, ve le consiglio. Poi ho acquistato anche questa colorazione qui che è un Black AB, cioè le stesse colorazioni di Swarovski e dei cristalli ciechi. Sono stupende. Eccole qui, sempre 11.0 e 15.0. C'erano anche tante altre colorazioni, ma non le ho acquistate tutte ovviamente perché non potevo. Ma queste qui mi sono piaciute subito e quindi ho deciso di acquistarle. Ho preso poi anche tre bustine di Swarovski. Nello specifico ho preso due bustine da 50 pezzi di 4 mm e una da 3 mm. E la colorazione è a dir poco fantastica. Si tratta della Capri Blu. Vi faccio vedere, ecco qui. Capri Blu Swarovski. Sempre da brillanti creazioni. Ringrazio Mari, mi ha fatto piacere tantissimo rivederla. E ringrazio anche Nunzia perché è sempre carinissima. E mando un bacio a entrambe. Poi mi sono recata presso lo stand di Filincanto, da cui ho acquistato delle piattine per il Sutash. E nello specifico ho acquistato alcune colorazioni di piattine metalliche, come questo qui, che è molto molto bello. Mi piacciono veramente tanto. Io ogni anno mi ostino a comprare piattine, ma non so se sono in grado di utilizzarle. Spero di riuscire ad utilizzarle al meglio. E poi ho acquistato questo qui, che è un marrone, un bronzo, sempre lame. Questo beige molto bello, sempre lame. E poi ho preso alcune colorazioni non metalliche, che sono queste qui. Si tratta di questo beige un po' più scuro, questo marrone, questo verde acqua molto chiaro, un verde pastello. Anzi, mi ricorda molto il Mint Alabaster della Swarovski, è molto simile come colorazione. E queste piattine qui, color acquamarina. Molto, molto belle. Le ho acquistate perché mi sono state consigliate. Molte persone si trovano bene con queste piattine, quindi ho deciso di provarle anch'io. Ho acquistato da loro anche un filo di cipollotti, perché era una colorazione che mi serviva. E poi vi farò vedere più in là come la utilizzerò. Infine, vi voglio parlare di questa pinza e dello stand da cui l'ho acquistata. Si tratta appunto dei fratelli Costanzo, che erano una famiglia siciliana, che appunto aveva uno stand adiacente a New Rainbow Gems, che è appunto lo stand che vende pietre dure all'interno della fiera. Sono dei pakistani che vendono delle pietre dure molto molto belle. Cosa aveva di particolare questo stand? Questo stand aveva dei materiali veramente molto molto belli. Purtroppo però, quando sono arrivata da loro, avevo già praticamente quasi terminato il mio budget. Però ho intenzione di acquistare qualcosa da loro, perché avevo visto delle bellissime mattonelline in pietra lavica e ceramica. E ho intenzione appunto di acquistarne qualcuna da loro. Cosa c'entra questa pinza? Questa pinza è la pinza con cui stava lavorando il proprietario dello stand. E io praticamente avevo bisogno di una pinza con le punte molto più sottili, perché le punte della mia pinza praticamente sono un po' tagliate verso qui, diciamo, più o meno. E allora la mia amica, dopo aver parlato con il signore, l'ha, diciamo, convinto a vendermele a una cifra simbolica, molto simbolica. Quindi io lo ringrazio tantissimo. E quindi niente, questi sono i miei acquisti della fiera creativa di Napoli. La fiera, tutto sommato, io ho trovato un po' meno affluenza rispetto alle altre edizioni. Non so se è stata soltanto una mia impressione o se effettivamente è stato così. Però è sempre bello avere una fiera, appunto, al sud Italia, a Napoli, perché è un punto di riferimento per tutte le persone che amano la creatività a 360 gradi, perché poi lì si tratta, appunto, si trattano vari campi dell'artigianato. Non solo la creazione di gel artigianali, ma anche di borse, decoupage, ricamo, cioè veramente di tutto. Quindi io sono felice di essere riuscita ad andare in fiera, anche se in extremis. Ringrazio Marilu per tutto, ringrazio tutte le persone che ho incontrato. Mando un bacio a tutti voi e grazie per la visione. Alla prossima. Ciao, ciao! 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 Ciao!